la casetta una bella casetta piccola piccola realizzata a mano di ceramica è bella bella bellissima qua c'è la porta ecco la porta che va ad incastro e voilà si chiude la casa e qui c'è il lato di dietro il lato di dietro e le finestre la porta finestra il tetto